Ascoli è una piazza che mi ha seguito da qualche anno e finalmente sono arrivato e non vedevo l'ora e sono contentissimo di essere qui. I ruoli li ho fatti tutti, come dicevo prima, però terzino sinistro mi trovo meglio e anche a destra mi trovo benissimo, però terzino sinistro e anche essendo destro mi trovo molto bene. Qualsiasi giocatore giochi, ci siamo messi a disposizione del mister, siamo stati lì concentrati e tutta la gara, anche se eravamo giovani, abbiamo cercato di fare quello che ci chiedeva il mister e poi per il risultato finale c'è molto rammarico perché era una partita praticamente vinta, ma secondo l'abbiamo pareggiata. La convivenza è dura, no, scherzo, nel senso stiamo molto bene, lui mi ha consigliato di venire qua, che era la piaccia ideale per un giovane, per crescita e per fare esperienza e c'è tutto per far bene. Padoin dà tantissimi consigli a tutti, prima della partita mi spiegava bene cosa fare, come muovermi, dove passarla, c'è un ragazzo d'oro che dà una mano a tutti, è importantissimo per la squadra. Diciamo che potevo fare molto di più, non sto più a dare colpe perché sicuramente anche io ho delle colpe per non aver giocato abbastanza secondo me, però le partite che ho fatto sono molto soddisfatto per il gol, prestazioni sempre positive, quindi di quello sono soddisfatto, potevo fare qualche partita in più sicuramente, però va bene così e meglio così sono venuta da...